La Ragonessa è Stella Russo, voce di Sola D3. Che emozione provi oggi a cantare davanti i tuoi concittadini in tuo paese? E allora, un'emozione sicuramente grandissima. Io mi sono trasferita da poco in un altro paese, però per me Aragona rimane sempre casa mia, i miei concittadini sono i miei familiari, quindi una grandissima emozione e sono veramente onorata e lusingata per questa opportunità. Quali sono le tappe prossime del vostro gruppo? Allora, imminente la prima tappa sarà la chiusura di un tour che stiamo facendo fuori dalla Sicilia. C'è la Lamborghini che ha organizzato un evento per i suoi clienti e ci ha fatto l'onore di allietare le serate di questa gente, quindi subito partiremo per Verona. Poi ritorneremo e ricontineremo a suonare per la nostra Sicilia, sia dal lato di Trapani che a Grigento e nel Catanese. Quindi subito quello e poi ritorneremo in Sicilia per continuare quello che abbiamo iniziato. Il vostro è un gruppo giovane, è nato febbraio scorso, però avete avuto subito un grande riscontro di pubblico. Secondo te qual è la chiave del vostro successo? Sicuramente sono anche i nostri arrangiamenti, perché modifichiamo di molto le canzoni famose, sia moderne che antiche, nel campo musicale comunque mondiale, perché facciamo musica di vario tipo. Abbiamo avuto un ottimo riscontro in questo e ci ha spinti a continuare ancora a farlo.